Arriva la Re Canatese, 0 punti in due partite per i giallorossi, bisognerà stare attenti alla loro voglia di riscatto, ma dal punto di vista più tecnico-tattico a cosa si deve fare attenzione? Fare attenzione è che la Re Canatese è una buonissima squadra, è vero che ha perso le prime due, ma secondo me immediatamente tutte e due, ho visto una buona squadra, una squadra viva, la conosco bene, perciò conosco anche molti giocatori, noi però dobbiamo pensare a noi e dobbiamo seguitare la crescita che la squadra sta facendo, sta lavorando molto bene, con grande voglia, grande entusiasmo, io mi preoccupo più della mia squadra che degli altri. Senta mister, mancherà Giovanni Alessandretti per la squalifica, si pensa a un cambio modulo o 4-3-3 comunque consolidato di partenza? No, assolutamente, noi stiamo lavorando su questo modulo e trariamo questo, insomma non penso che un giocatore possa portare poi più avanti, vedremo se non per un giocatore, se questo è il modulo più giusto per questi giocatori, per questa squadra. Tutti disponibili per domenica, stavo dicendo per domani. Sì, sì, tutti disponibili, meno Alessandretti e gli infortunati, insomma storici. Mancherà Melchiorri alla Reganatese, però ritornano Marcheggiani e Sbaffo, dove è stata la difficoltà? È meglio che non gioca Melchiorri o il ritorno di questi due giocatori? Sì, intanto mando un saluto grandissimo a Federino perché è un giocatore che ci ha avuto e sono tanti anni che lo conosco, una persona seria, nella sua carriera ha avuto tantissimi infortuni, questo è l'ennesimo, mi dispiace molto e lo dico con tutto il cuore e mando un grosso abbraccio, già l'ho sentito e mi dispiace molto. Poi, ripeto, ogni squadra ha giocatori forti, Alessandro lo conosco bene, è giocatore fortissimo per la categoria, però la mia idea è quella sempre di lavorare sui miei, io sono concentrato sulla squadra da mandare in campo e della sua idea di calcio, rispetto agli altri e soprattutto molti di stimo, però questo non fa cambiare la mia idea e soprattutto stimo anche molto il mio gruppo, i miei giocatori che è una cosa fondamentale.